Benvenuti su Matteo Giulianci. Il tempo ha previsto fino al 5 novembre. Sarà un tempo molto piovoso in due distinte fasi. Una prima fase tra il 26 e il 30 ottobre quando un'intensa perturbazione atlantica, una delle più intense degli ultimi due mesi, arriverà sull'Italia provocando un forte calo di pressione su tutto il centro nord con la genesi di un vortice di bassa pressione sul nord Italia molto profondo il quale darà luogo a piogge diffuse e di forte intensità su tutta l'Italia. Si potranno raggiungere molte regioni a valore oltre i 100 mm, piogge che saranno forti soprattutto sulla Lombardia, il Triveneto, la Toscana, l'Umbria e il Lazio. In questa fase le temperature scenderanno di molto al centro nord, tanto che entro lunedì le massime saranno al di sotto di 20 gradi su tutto il centro nord. Sulla regione meridionale entro lunedì e martedì scenderanno al di sotto di 25 gradi ovunque. Seconda fase tra il 31 di ottobre e il 5 di novembre. Arriva una seconda perturbazione, anche questa abbastanza intensa, in arrivo questa volta dalla Spagna. Questa nuova perturbazione porterà piogge diffuse su tutto il centro nord per effetto di venti di scirocco, intensi venti di scirocco, i quali favoriranno un forte rialzo delle temperature su tutta l'Italia, quindi per effetto appunto di questi venti più caldi e di origine nordafricana. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Gioliacci. Grazie a tutti.